Allora, siamo fortunati ad avermi qua. Perché? Perché me la sono vista brutta questa settimana. Che cosa è successo? Guarda che in effetti è un po' che non ci aggiorni col tuo bollettino medico. La gente a casa si chiede, ma Guybrush, qual è il suo segreto adesso? Come ha fatto a passare dall'essere il cagionevole pirata a diventare l'immarcescibile pirata? Allora, intanto mi sono tirato una gufata fotonica la settimana scorsa, parlando con mia moglie e dei nostri figli, difficolti a Jasmine, ho detto, però, dai, è andato bene quest'inverno, si sono ammalati poco. Tacca, ammalati tutti e due. Quindi mi hanno tenuto sveglio, ma sveglio, sveglio, per quattro giorni di fila, quindi oggi sono allo stremo delle mie forze. Ho in corpo un sacco di… sono a 0,8 di Red Bull, quindi se mi ferma la polizia mi ritiro la patente. Stai attento perché è un attimo che mi fai overdose di Red Bull, eh? Sì, esatto, esatto. Quindi, e poi anche io sono malatino, quindi questa bull run, insomma, si torna a una leggera correlazione tra mio indice di salute. Sì, e mi si riconferma la correlazione tra prezzo di Bitcoin e salute di Guybrush. E la scarsa salute di Guybrush. Molto bene, molto bene, ragazzi. Vi terrò a questo punto aggiornati perché se superiamo i 100.000 come minimo perde un arto Guybrush, qualcosa del genere, per non dire il pipino. Non, 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 non. Benvenuti amici! Eccoci, Bitcoin Italia Podcast, tutti a casa avranno immediatamente intuito chi è l'artista che tu hai interpretato in questo inizio del nuovo episodio, caro amico mio. Questo è il rumore che ho nel cervello da una settimana. Molto bene, molto bene, tanta solidarietà, caro mio, per i tuoi neuroni, se sono queste le condizioni. Benvenuti amici, episodio numero 9 della sesta stagione del Bitcoin Italia Podcast. Sesta stagione significa che sono ormai sei anni che siamo qui giovedì, dopo giovedì, ore 17, dopo ore 17, potete raccontarvi Bitcoin in lingua italiana così come, secondo noi, in Italia non lo fa nessuno. Guybrush, mentre stiamo registrando, 6.557 blocchi sono quelli che ci separano dalla nuova epoca, caro mio. Ormai ci siamo, in combe. Ci siamo, in combe il periodo dell'Alving sta arrivando. Cioè il meme che mi piace di più è quello di Homer Simpson che fa il sandwich che dice The Alving is coming, come The End is here. È vero, è vero. No, è un evento importante. Sei emozionato? Sono emozionato, sì. Lo senti un po' quel friccicorino, le farfalle allo stomaco, quelle cose tipiche di un nuovo Alving? Mi piace, no, a me piace pensare dal lato tecnico appunto tutti questi computer che sincronizzati allo stesso momento decidono che da lì in poi cambia, diciamo, la storia e cambia anche, cambia tutto l'incentivo, cambia, vabbè per noi poco, però per tipo chi ha un'industria di miner e così per loro è un evento epocale, appunto si chiama epoca il periodo. Quindi mi piace pensare che… Saranno mesi che sono seduti allo scrittoio a fare calcoli, a far quadrare i conti, cosa succede adesso, dunque stacchiamo qui, rinnoviamo il parcomacchine di lì, investiamo di là. Ah, i miner non sono mica degli sprovveduti e l'incidere matematico di bitcoin lo rende anche calcolabile e se vogliamo prevedibile. Esatto, la parte bella poi è l'inversione, cioè se nel sistema classico fiat è il contrario, noi pendiamo dalle labbra del banchiere centrale che dice abbiamo deciso di alzare i tassi, abbiamo deciso di abbassare i tassi, qua è il contrario, tutti pendono dalle labbra dei nodi che decidono di imporre l'immezzamento della ricompensa a un certo punto, mi piace questa inversione di potere. Beh, in realtà però tutti i nodi battono i tacchi perché eseguono il codice che fu stabilito da Satoshi Nakamoto, quindi in realtà non è una decisione, è più… No, non è una decisione però è un'imposizione che viene da un sistema distribuito, ecco tutti i nodi insieme invece che il contrario, invece che un vertice che decide come sarà la politica monetaria alla fine. Che emozione Guybrush, che emozione, settimana pazzesca, oggi ci toccherà parlare poco 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 però e ve lo promettiamo di prezzo che però è stata una settimana roboante, abbiamo sfiorato, qualcuno dice l'abbiamo superato, non si capisce il nuovo all time high e addirittura prima dell'alving, cosa che non era mai successa se non sbaglio prima di una, così a ridosso di un alving e questo fa, come dire, gasa i bulli più bulli che ci sono, non nel senso di bulli a scuola ma nel senso di bullrunner, bulls, nel senso di tori e quindi questa cosa ha scatenato entusiasmi un po' dappertutto. Mentre tutto questo succedeva io ero a Madeira per Bitcoin Atlantis e tra poco vi racconterò come abbiamo vissuto dall'isola le notizie che arrivavano inesorabilmente di questa nuova appunto bullrun che sembra a questo punto essere iniziata in anticipo fuori programma e tra un po' parleremo quindi di entrambe le cose non prima però Guybrush di dare a tutti coloro che sono per esempio piemontesi o nella zona diciamo di Cuneo perché sono definitivamente tornato in Italia e secondo me per un paio di mesi almeno graviterò attorno alla penisola italica per lavoro perché ci sono si avvicinano tutta una serie di appuntamenti primaverili che ci vedranno protagonisti in zone d'Italia e dal vivo inizio io caro Guybrush con un evento fichissimo chiamato BitCuneo che si terrà sabato 16 marzo 2024 a partire dalle ore 14 del pomeriggio presso lo spazio Varco via Carlo Pascal Cuneo trovate nelle note dell'episodio il link alla pagina Instagram e al sito web di BitCuneo per avere tutti i dettagli sarà un pomeriggio bello di approfondimento non sarò l'unico presente ma alle 14 aprirà le danze Giorgio Rasetto di BitPolito con Capire Bitcoin poi ci saranno un laboratorio appunto curato da quelli di BitPolito e alle 16 e 30 ci sarò io con Bitcoin nel mondo l'evento è a scopo divulgativo l'ingresso è assolutamente gratuito e quindi ragazzi che cosa volete che vi dica se siete in zona e volete passare a trovarci ci sarò io ci saranno gli esperti di BitPolito e poi avremo modo anche a margine dell'evento di chiacchierare eccetera eccetera se avete qualche amico che vive in zona e che volete orangepillare non c'è niente di meglio è un'ottima occasione quindi portatelo ci vediamo sabato 16 marzo a Cuneo per l'evento BitCuneo mi raccomando date un follow alle loro pagine e facciamo girare la notizia we are Guybrush legion tornato da Bitcoin Atlantis Guybrush che freddo si stava meglio lì isola molto bella Madeira ti devo dire la verità mi ha proprio colpito io ho visto da qua dal mio studiolo qua ho visto delle foto sembravate in un paradiso bella 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 devo dire che mi ha proprio stupito non me l'aspettavo così ho visto Bitcoin entusiasti di solito quelli Bitcoin riprogrammatori bianchi e mollici invece qua trekking paesaggi sconfinati oceano sì 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 devo dire che mi ha veramente colpito perché è proprio bella ecco perché ci sono andati anche i big chissà chissà e non vengono a Lugano è possibile è possibile Madeira sicuramente ha delle caratteristiche non indifferenti la prima è quella di essere in Cologna totale al centro dell'Atlantico quindi bisogna proprio andarci lì convinti forse per questo motivo io mi aspettavo un po' che fosse un'isola abbastanza dimenticata da Dio e invece chiedo scusa a tutti i Madeirani per primo ovviamente Cristiano Ronaldo che sarà rimasto sicuramente sconvolto dai miei preconcetti su Madeira perché invece è una bellissima isola con tante attrattive naturalistiche Funcial la città dove ci trovavamo che è quella dove si è tenuta la conferenza e dove anche noi soggiornavamo è una bella cittadona da 200.000 abitanti devo dire con un bel centro storico piacevole con tutto quello che serve un bel lungomare dove passeggiare quindi anche la città la cittadina città città 200.000 è una città mi ha davvero colpito ed è stata una settimana molto bella perché secondo me loro hanno avuto fra le varie buone idee quella di posizionare Bitcoin Atlantis la conferenza quindi sfruttando molto le potenzialità se vogliamo turistiche della dell'isola e questa è la prima nota super positiva che devo darvi oggi per quella che è la mia recensione della conferenza perché dico questo perché loro hanno avuto l'idea di rendere di fare di Bitcoin Atlantis forse la prima conferenza family friendly a portata di famiglia lo dico anche per te Guybrush qualora l'anno prossimo tu ci voglia fare un pensierino la prima conferenza family friendly veramente se vogliamo nel mondo Bitcoin nel senso che hanno costruito attorno ai tre giorni di conferenza un ricchissimo programma di side events di eventi paralleli non ovviamente solo sponsorizzati dall'organizzazione ma anche da tutti i marchi dai tanti marchi che erano presenti sull'isola e quindi c'era tanto da fare qualche giorno prima e altrettanto c'è da fare nei giorni seguenti alla conferenza proprio per cercare di invitare i Bitcoiner se vogliamo a non limitarsi ai tre giorni di conferenza ma sfruttare l'isola trascorrerci una settimana se non di più per godere delle bellezze locali e poi fare ovviamente anche la conferenza una conferenza che era perfettamente attrezzata per per avere per accogliere anche le famiglie e quindi per esempio c'era una ampia area giochi per i bambini col del personale che teneva un occhio ai bambini c'era addirittura un palco per i più piccoli con delle conferenze per i più piccoli hanno aperto zucco e jack mallers per dirti e c'erano tanti bambini c'erano tante famiglie tante ragazze e c'era devo dire un ambiente un po diverso per merito di questa di questa cosa delle altre conferenze molto più aperto e proprio più familiare con questi grandi spazi dedicati quindi se anche voi siete dei bitcoiner con famiglia che avete la moglie magari che sbuffa quando vi sente parlare di bitcoin e i figli piccoli a cui giustamente per il momento magari ancora non gliene può fregare meno segnate sul calendario bitcoin atlantis perché se la faranno l'anno prossimo ha queste caratteristiche qui che la rendono insomma dal mio punto di vista secondo me molto interessante la conferenza si è svolta in un'isola devo dire perfettamente consapevole di quello che stava succedendo diamo anche un follow up guy brush su quello che abbiamo detto settimana scorsa ho avuto modo di parlare con gli organizzatori ma anche proprio coi maderesi quindi coi taxisti vari poi sai che io mi incuriosiscono queste cose come si dice in portoghese una domanda posso pagare in bitcoin non lo so non lo so non lo so perché comunque lì parlano tutto inglese abbastanza bene quindi è una zona del portogallo un po a sé ovviamente vivendo contando molto sul turismo e sull'apporto dei turisti però abbiamo chiacchierato un pochino e ti ricordi che settimana scorsa avevo detto che appunto l'umore sull'isola non era dei migliori a causa delle vicende di corruzione che avrebbero appunto portato il presidente di madeira al bucherche alle dimissioni ecco mi sono informato un pochino e tutto sommato ho trovato più distesia più distesa o il clima di quello che mi sarei aspettato perché se è vero tutto quello che abbiamo detto settimana scorsa ed è vero il follow up che ho da dare e che tutto sommato sembra proprio che gli atti processuali che incastrerebbero il presidente di madeira al sistema di corruzione esatto che che è stato appunto scoperto sull'isola sembra che i collegamenti siano abbastanza debolini e che quindi la mossa del presidente sia stata più che altro preventiva onde evitare di esacerbare gli animi ma probabilmente si uscirà da questo processo con un nulla di fatto il presidente attuale quindi tornerà a ricoprire la carica di presidente e anzi correrà tra qualche mese per le elezioni dove è dato abbastanza tra i favoriti soprattutto se appunto i giudici non troveranno nulla di così importante sul suo conto e quindi sembra proprio che l'allarme iniziale che comunque c'è ed è reale sia un pochino rientrato perché guardando proprio le carte processuali sembra che non ci sia granché quindi si è aperta la prima edizione di bitcoin atlantis devo dire in modo abbastanza festoso ciò nonostante in una madeira devo dire anzi più nello specifico guy brush in una funcial che ha mostrato i muscoli nel senso ha mostrato un'adozione devo dire veramente solida cosa che francamente non mi aspettavo questo interessante hanno lavorato molto bene vuol dire che attorno ci sono negozi attività esercizi che accettano bitcoin in maniera agile sì sì devo dire di sì mi ha stupito molto questa cosa anche perché ancora una volta le mie le mie fonti portoghesi i miei amici portoghesi che erano stati sull'isola mi avevano mi avevano parlato di una di una comunità bitcoin sull'isola fino all'anno scorso molto piccola con praticamente zero uno sparuto numero di attività che accettavano bitcoin all'epoca e invece mi hanno confermato anche gli organizzatori in questo in questi mesi di preparazione della conferenza hanno lavorato molto bene sull'isola e devo dire che ho trovato dei commercianti molto rapidi ed esperti a sditeggiare sul loro post e a mostrarti un codice qr sì quasi tutti avevano un post con blink collegato a btc pay server che è ottimale come soluzione poi ovviamente non ho la contezza di come facciano tutti però ovviamente loro hanno messo a disposizione anche un'assistenza tecnica diciamo per onbordare i primi commercianti e quindi tutti molto veloci e pronti a farti vedere un codice qr e tanti bitcoin ero sull'isola le attività le più disparate da hotel a ristoranti a caffetterie e un clima molto piacevole in tutti i sensi sia nel senso proprio climatico perché faceva abbastanza caldo che molto piacevole perché appunto sembra che bitcoin abbia fatto il suo ingresso trionfale anche tra coloro che vivono sull'isola appunto nella speranza che poi l'abbrivio possa essere in discesa anche sul fronte politico e che quindi questo progetto sull'isola possa continuare nei prossimi anni non solo con altre conferenze ma proprio con la creazione di un hub bitcoin sull'isola e quindi che questa cosa possa essere davvero solo l'inizio di tutta una storia legata a bitcoin sull'isola di madeira quindi lì sta funzionando cioè nel senso un turista bitcoin bitcoin turista potrebbe andare lì farsi una vacanza prenotando uno dell'hotel uscendo facendo dell'attività così sì sì direi di sì direi di sì direi di sì mi sembra proprio di poter dire senza timore di essere smentito che c'è praticamente tutto quello che può servire poi ovviamente magari se uno vuole vivere esclusivamente in bitcoin si riduce un pochino il ventaglio di offerte possibili però anche guardando su btc maps nel centro di funcial ci sono dozzine e dozzine di commercianti che accettano bitcoin quindi tutto sommato uno può vivere più che dignitosamente in bitcoin e fare abbastanza tutto hai capito come mai si è creato questa isola felice chi è che è come c'è stata una comunità dal basso come che so le altre bolle piccole bolle che si è andato a visitare in costa rica in guatemala in sud africa così o è più una roba che è venuta dall'alto un politico qualcuno no 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 non è una cosa in realtà che è venuta dall'alto nemmeno questa nel senso che nasce nell'alveo di questa organizzazione che si chiama fri madeira dove fri non è proprio libero ma è un acronimo per forum regionale educação economica quindi forum regionale di educazione economica che era un progetto già presente sull'isola da diverso tempo che appunto si occupava di insegnare educazione economica agli isolani e che però ha presto scoperto bitcoin sul suo percorso il leader diciamo andrè uno dei leader di questa associazione e colui che ha voluto fortemente e che si è fatto carico della della dell'organizzazione andrè logia loia logia chi lo sa come si dice è un bitcoiner è un hardcore è un maderano puro sangue e quindi è stato lui per primo ad unire i puntini e rendersi conto che tutto sommato grazie alla grande indipendenza fiscale dalla madre patria di cui gode madeira bitcoin avrebbe potuto essere uno strumento utile per lanciare rilanciare l'isola come appunto bitcoin hub e meta per bitcoiner expat imprenditori digitali vai poi a capire esattamente qual è il profilo per il quale questa cosa qui è più attrattiva però appunto nasce da questo gruppo di persone dietro questa organizzazione l'iniziativa ma c'è c'è stato un periodo qualche anno fa quando io ancora era un omode digitale che era andato alle canari in cui dicevano tutti che il portogallo sarebbe stata la nuova sila silicon valle europea che loro avevano aggiunto delle agevolazioni fiscali molto forti appunto per chi andava lì e lavorava nel campo delle tecniche delle start up innovative magari in quel contesto lì madeira è riuscita a mantenere il faro è diventare un faro per questa cosa perché su un'isola è un pochino più facile forse misurare l'adozione e implementare l'adozione di bitcoin beh sicuramente sicuramente è tutto lì concentrato quindi si ha un controllo migliore è stato molto bello però vedere i commercianti contenti soddisfatti di ricevere bitcoin come pagamento e perfettamente formati questo dà sempre speranza perché quei commercianti lì sono coloro che secondo me prima di tutti hanno capito che bitcoin nel futuro e che quindi si godranno i vantaggi del first mover i first mover italiani ci sono sono coloro che accettano bitcoin oggi in italia e ce ne sono una gran quantità che accettano bitcoin grazie a b pay il servizio chiavi in mano sviluppato da bitcoin people b pay è quell'app che trasforma il vostro dispositivo in un post bitcoin che in pochi minuti vi mette nelle condizioni perfette per ricevere ed inviare pagamenti on chain e lightning nel vostro negozio nel vostro ristorante nella vostra attività b pay tiene anche conto e compila un documento con i vostri incassi in bitcoin da girare al vostro commercialista in modo tale che tutto possa essere sempre a portata di mano sì ma sotto controllo bitcoin people punto it è il sito di riferimento compilate il form che trovate a pie pagina per contattare bitcoin people e ricevere una consulenza gratuita da i loro esperti b pay è il modo più facile senza pensieri per entrare nel futuro chiamato bitcoin domani portate immediatamente questa innovazione nella vostra azienda oh invece la conferenza ho visto intanto mille selfie con con jack dorsey che è stato criticato per avere sempre la stessa magliettina in tutte le foto è vero però devo dire la verità devo dire la verità io ai nostri ascoltatori avevo promesso tutti dietro le quinte io mi sono avvicinato per la scienza e devo dire che contrariamente a quello che tutti sospettano non gli puzza la scella ad orse ok ok è uno che non suda oppure ha tante magliette uguali e profumate no lui ha risposto a un tweet del buon federico rivi dicendo che ne ha solo due però quello che non ha detto a federico rivi è che ha uno staff di dieci persone che lavano e stirano e profumano tutti i giorni quelle due magliette lì e poi ho visto uno sballonzolante jack mallers dare conto perché jack mallers devo dire che non racconta la sua fisicità il suo modo di esprimere di muoversi non racconta poi la profondità di quello che dice cioè tutte le volte che parla io mi stupisco perché inizia sempre dici guarda questo deficiente e invece poi dice una genialata e tutto rientra ha dato una risposta molto brillante secondo me agli vari critici di lightning network a chi dice che lightning network non scala non è pronto lui ha parlato di aspettative e del fatto che tutto dipende dalle aspettative che uno ha rispetto a un determinato esito di un evento se tu ti aspetti che domani 8 miliardi di persone usino lightning network ok allora lightning network è indietro ma se lo usi come per esempio lo facciamo noi con il nostro nodo mettiamo a disposizione liquidità riceviamo le donazioni interagiamo con parti del mondo con cui non avrei mai sospettato proprio per collaborare alla creazione di un network di pavamenti allora questo già funziona perfettamente lui dice strike lo fa già lo usiamo già e quindi è una risposta molto semplice ma brillante e poi ho visto ma come ti dicevo prima tipo sto parlando di del poco che ho visto io da qua poi mi racconti tu i dietro le quinte e poi ho visto grande sarà anche un po' la bull run ottimismo amici sorrisi foto insieme allo stadio foto insieme trekking attività insomma vibrazioni molto molto positive ma sì ma perché siamo ancora una comunità relativamente piccola e quindi ormai quando ci si incontra si sta tra amici ci si riconosce ci si racconta ci si chiacchiera poi è evidente che questa era una conferenza in bull run non siamo abituati a farne tante di conferenze in bull run e quindi anche se il prezzo è secondario comunque non è irrilevante e quindi da questo punto di vista sicuramente c'era ottimismo l'hai già menzionato molto particolare la scelta della location nel senso che era all'interno dello stadio cristiano ronaldo ovviamente di funcial e probabilmente immagino perché non c'era uno spazio grande a funcial sufficientemente per accogliere gli oltre 3.000 partecipanti perché di questo si sta parlando e quindi una conferenza organizzata in uno spazio molto particolare dove il palco era l'unica cosa che aveva il permesso di stare il palco principale sul campo di gioco sul lato lungo all'altezza diciamo delle panchine più o meno rivolto verso gli spalti e tutti gli spettatori del palco principale quindi stavano comodamente seduti sugli spalti tutto il resto si svolgeva sul lato quindi era un cerchio anzi un ovale l'avegno sui lati e quindi sotto le gradinate del dello stadio di calcio e in una grande tensostruttura dove abbiamo parlato io e laura chiamata open source stage all'esterno una conferenza una una location devo dire per quanto interessante rischiosa siamo stati graziati dal clima se avesse piovuto fatto brutto tempo sarebbe stato un disastro chiaramente non pensata per quell'obiettivo lì e quindi l'ovale ti frega perché cammini tutto il giorno girando in cerchio e se quello che stai cercando gira in cerchio anche lui nella stessa direzione praticamente non vi troverete mai hai capito quindi poco poco come dire poco poco pratica da questo punto di vista un po di problemini organizzativi ti dirò guy brush non è proprio riuscita al cento per cento non è facile tanti speaker da coordinare l'organizzazione secondo me ha lasciato un po a desiderare per certi aspetti e uno pensa vabbè la prima volta ci può anche stare è vero è vero se praga e lugano non avessero alzato talmente tanto l'asticella organizzando delle conferenze praticamente perfette al primo tentativo quindi bitcoin atlantis devo dire da un punto di vista organizzativo rimandata a settembre come minimo speriamo appunto che l'anno prossimo possano fixare un pochino quello che però è sempre interessante quando vedi delle conferenze di questo profilo quindi di alto profilo è un po cercare di capire qual è il tema come hanno come hanno organizzato gli speech sui vari palchi per capire quali sono gli aspetti di bitcoin che hanno scelto di sottolineare in modo particolarmente forte perché questo ci dà secondo me un'indicazione è proprio dal polso della situazione di quello che secondo me in questo momento come direbbero gli americani guy brush è hot su bitcoin no e quindi come è stata pensata questa conferenza questa conferenza è stata guy brush pensata con un primo giorno tutto proprio no dedicato a il virtue signaling a parlare di bitcoin in maniera forse un po troppo entusiastica ma giustificabile ha aperto la conferenza jack mallers che tu già menzionavi jack mallers si è scagliato a dir poco contro i contro il termine blockchain guy brush contro il termine blockchain jack sostiene che il termine blockchain è uno scam e che noi come community dovremmo smetterle di usarlo e passare definitivamente al termine time chain va bene dai mi impegno che sono abituato a tanto tempo che purtroppo però a me suona un po come una sconfitta cioè adesso non si può neanche più dire cripto che per diventi subito un truffatore cioè ci hanno sono appropriati di alcune parole forse dovremmo fare il contrario cioè riappropriarsi noi delle parole però vabbè ci sta questa qua di blockchain l'accetto perché effettivamente dal punto di vista intuitivo quello che vediamo in bitcoin ha una catena di blocchi di dati però effettivamente lo stesso satoshi nakamoto la descrive più come una time chain quindi va bene questo l'accetto dai mi impegno lo farò va bene va solo se vuoi e non siamo obbligati ovviamente possiamo sempre fare quello che ci pare però devo dire la verità jack mallers bravo come sempre però non è che abbia detto niente di nuovo molto secondo me più interessante il primo giorno è l'intervento lungo intervento di james levish che è un che è un trader che è un consiglio investimenti professionalmente per aziende lo avevamo intervistato chi se lo ricorda a miami assieme a greg fos e ci aveva già deliziato è un analista molto bravo e molto preparato che abbiamo fatto una puntata anche su una delle sue analisi mi pare sì sì è molto bravo è molto bravo la candela di dio la seconda di questa stagione esatto lui è molto bravo poi ovviamente fa quel mestiere lì ad alcuni bitcoiner può non piacere l'analisi tecnica finanziaria dei mercati però è una cosa che esiste ed è bello sentire parlare uno come james perché appunto ti dimostra ancora una volta passo per passo per quale motivo la spirale del debito è irreversibile dandoti i numeri dimostrandoti come i paesi soprattutto gli stati uniti lui americano impostano il proprio bilancio anno dopo anno e quindi di come la spesa di questi paesi farà schizzare il debito pubblico a una velocità talmente tale da renderlo insostenibile secondo i suoi calcoli da renderlo insostenibile praticamente entro il 2050 quindi qua dietro l'angolo e naturalmente lui inserisce molto bene la 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 razione di bitcoin all'interno di questo scenario apocalittico che però documenta con estrema precisione nelle note dell'episodio raga vi lascio la pagina il canale youtube di free madeira dove potete rivivere i tre giorni della conferenza sia sul palco principale il satoshi stage che il palco secondario l'open source stage quindi segnatevi io vi consiglio di guardarvi james levish e il panel seguente con lynn alden e michael saylor che lynn da sempre lynn è tosta lynn davvero uno dei personaggi migliori secondo me che si sono affacciati nella nostra nella nostra nel nostro ecosistema di recente apre il pomeriggio mai colone sailorone che fa un lunghissimo intervento dove praticamente dice there is no second best it's going up forever laura quindi ribadisce concetti noti ma forti allora devo dirti la verità non mi è piaciuto molto sailor tanto mi era piaciuto a praga uno degli speech migliori di praga è stato qui invece un po' troppo lungo gli hanno dato secondo me troppo tempo a molti dei protagonisti sono stati dati 45 minuti 45 minuti di sailor c'è uno ha capito che dopo un po' si spara negli zebedei e quindi insomma sì però ecco una prima giornata per fare capire a chi ci sta ascoltando tutta dedicata agli aspetti economici a ciò che ci aspetta e a come appunto bitcoin risolve tutta una serie di problemi legati alle a ciò che ci affligge oggi il secondo giorno invece guy brush dal mio punto di vista molto più interessante del primo quindi vi consiglio assolutamente di andarvelo a vedere perché apre la mattinata button e da una prima parte tutta la mattina del secondo giorno è tutta dedicata alla questione ambientale e a bitcoin come strumento green e mi fa molto piacere questa cosa perché vedo che il nostro mondo non è così sordo alle enorme potenzialità che ci sono di utilizzare questa narrativa per 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 diffondere bitcoin e quindi loro non la conferenza non solo condivide la nostra analisi ma investe in educazione dedicando tutta una mezza giornata bellissimo lo speech di daniel button dove daniel button guy brush sostanzialmente ci dà pienamente ragione e ci dice guardate che noi non solo non dobbiamo avere paura di parlare di bitcoin come strumento come propulsore della conversione verso le energie rinnovabili perché è assolutamente così noi dobbiamo assolutamente anche dice lui usare in maniera sfacciata quella che da molti bitcoiner viene considerata una parolaccia ovvero l'agenda esg la famosa guy brush agenda esg dove esg sta per allora esg è environmental social and governance credo che sia governance e lui dice una cosa che secondo me è assolutamente potente lui dice noi non dobbiamo insultare queste politiche dobbiamo cavalcarla quest'onda perché ci spiega e ci che nessun'altra industria ha quella di poter diventare proattivamente nel giro di cinque anni carbon neutral prima e poi carbon negative distruggendo in partenza tutta la narrativa bitcoin inquina quindi lui dice non solo noi facciamo nostra l'agenda esg ma rivendichiamo il fatto che bitcoin è l'unica industria che può diventare esg compliant rivendichiamolo con forza e per farlo ci dice button puntiamo tutto sul venting è stato chiarissimo lui è stato chiarissimo lui dice che calcoli alla mano con mi pare 25 discariche americane che fanno venting 35 scusami bitcoin diventa carbon negative e questo è l'unico modo per fare fermare la food da bitcoin inquina lui dice di avere parlato con i suoi collaboratori di bitcoin a membri del world economic forum dell'unione europea eccetera 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 che tu che gli hanno tutti confermato che se bitcoin dovesse diventare carbon negative sarebbe per loro una cosa da sponsorizzare diventerebbe e quindi daniel batten dice il destino di bitcoin è legato a doppio filo con l'agenda esg rivendichiamola con forza puntiamo tutto sul flaring e sul venting e rendiamo bitcoin nel giro di cinque anni carbon negative l'unica tecnologia carbon negative che distrugge più più elementi clima alteranti di quanti ne sia in grado di produrre o per il proprio approvvigionamento elettrico questa cosa lui l'ha detta con una chiarezza la palissiana e personalmente mi vede troppo proprio d'accordo è cintura nera di argomentazioni perché io non ho mai visto uno fare dei discorsi così complicati con argomentazioni così precise puntuali e semplici quindi è veramente bravo ha raccolto il testimone di quello che purtroppo del compianto nick carter però è diciamo che è un nick carter al quadrato ecco perché i suoi iscritti sono veramente piacevoli e soprattutto è diventato il punto di riferimento per questo genere di discorso d'altro la sua azienda si chiama ch4 capital che è proprio la formula chimica del metano quindi gli è competente noi stessi a ravenna come abbiamo fatto il nostro speech a ravenna abbiamo portato gran parte del suo materiale a suffragio delle nostre tesi è vero sono contento sono contento ed è una buona idea tra l'altro anche anticipata da te mi ricordo qualche puntata fa quando dicevi proprio noi dobbiamo cavalcare la politica la diciamo la l'interpretazione green di bitcoin non dobbiamo avere paura di dire bitcoin è green ecco no assolutamente a ravenna si concludeva con due affermazioni importanti una era proprio bitcoin è un'azione climatica e quindi siamo ci siamo completamente d'accordo con questa assolutamente assolutamente dopo l'intervento di batten tanti altri panel dedicati al mining di gridless in africa tutte cose che chi ascolta il bip show ha già sentito raccontare raccontarci tante volte però quindi tutta focalizzata sul rapporto mining e ambiente mentre il pomeriggio praticamente demandato consegnate le chiavi del palco principale alla human rights foundation nella persona di alex gladstein tutta umanitaria con roya margbub che ha raccontato la sua storia obi sul palco ancora linalden tutta una serie di attiviste a ho dimenticato di dire prima che fra la mattina e il pomeriggio nella pausa pranzo diciamo sul palco principale di madera hanno proiettato stranded il cortometraggio di alana medavia che ha vinto a can quindi se volete ancora il film no stranded il cortometraggio esatto non dirty coin quello ancora da vedere ma stranded ne abbiamo parlato ci avete chiesto dove si può vedere ecco se andate nella diretta del secondo giorno di bitcoin atlantis più o meno a metà giornata lo potete vedere segue un'intervista molto bella con l'autrice alana e invece tutto un pomeriggio umanitario a riprova guy brush e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere che sono queste le organi le argomentazioni con cui noi usciamo la nostra dalla nostra bolla sono queste bitcoin come strumento politico bitcoin come opportunità sociale bitcoin come incentivo alle rinnovabili bitcoin come risposta al cambiamento climatico sono queste le buzzword con cui parliamo fuori dai bitcoin era la gente di strada ai normi chiamateli come volete sono queste le argomentazioni forti che abbiamo se siete convinti veramente di poter incuriosire l'uomo della strada con the sovereign individual l'anarco capitalismo la scuola austriaca e tutte queste robe qua raga fate come volete ma siete totalmente delusionali cioè siete accecati dalla vostra sociopatia a volte mi viene da dire perché alla gente di queste cose che hanno degli elementi oggettivamente molto interessanti non glielo ne può fregare di meno quindi se volete continuare a puntare tutto su questi elementi secondo me commettete un errore per fortuna che chi conta nel mondo come coloro che organizzano conferenze come bitcoin atlantis questa cosa l'hanno capita molto bene e invece di scuola austriaca se ne parla solo al terzo giorno alle nove di mattino con un palco semideserto e ci sarà un motivo no quindi il terzo giorno invece più economico forse anche un pochino più noiosetto e invece tutto pesato sul progetto locale della dell'isola eccetera 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 e gaibras più o meno però questo è stato non ci sono state grandissime novità presentate non è stata una conferenza particolarmente ricca di elementi tecnici di certo madeira non vuole essere la balti con i badger il terzo giorno ha parlato anche giacomo zucco sempre con un intervento bello sostanzialmente perché bitcoin è diverso da cripto e pungente però ecco si propone questa come una conferenza dove ci sono tutti i grandi big e che vuole insomma fare rumore mediaticamente che secondo me è una chiave di lettura che in questo momento è molto utile ok senti è dietro le quinte succosi hai visto qualche cosa imbarazzante hai visto michael saylor scaccolarsi cose di questo tipo michael saylor è stato tutto il tempo con le mani in tasca non gli ho messo non gli ho visto mettersi neanche un dettino sul naso devo nel naso devo dire che però ho visto dei selfie con con jack dorsi si jack jack è stato abbastanza un compagnone si è visto poco nel backstage però agli eventi laterali mi è capitato di incontrarlo più di una volta e mi sembrava abbastanza disposto anche alla chiacchiera con noi comuni mortali però ecco particolari indiscrezioni dal backstage ce ne sono state poche devo dire la verità ok ok no le ora niente allora la cosa che il dubbio che ho io è che una conferenza di questo stampo fatta in un'isola in cui per arrivarci ci vogliono cinque ore d'aereo cioè lì al massimo puoi coinvolgere qua un numero limitato di no coin erano quelli che vivono lì forse il l'idea sarebbe fare una conferenza più cazzuta lì dove se vogliono venirti a prendere devono farti cinque ore di aereo e la conferenza stile così in un posto più centrale che sta a berlino così dove puoi coinvolgere tirar dentro la maggior parte di se i contenuti sono così è come mi hai detto tu è cioè mi sembra l'opposto di quello che dovrebbe essere il potenziale di un'isola sperduta nell'oceano cioè avrebbe più senso fare la baltica rivedger lì e la bitcoin atlantis a riga capito allora come come ho già detto la seconda la puntata scorsa secondo me tutta l'iniziativa qui grava attorno alla possibilità col bel col placet della politica di dare sgravi fiscali a chi vuole portare se stesso o la propria azienda sull'isola poi questo lo vedremo però dai guy brush non ci possiamo neanche lamentare nel senso che comunque negli ultimi tre anni in europa tra praga lugano amsterdam quest'anno c'è un'altra in olanda c'è adopting a bitcoin ad arnem cioè mi sembra che non possiamo più lamentarci cioè quattro anni fa cinque anni fa ci lamentavamo che se volevi andare a una conferenza bitcoin con i controcoglioni dovevi prendere e andare a miami o negli stati uniti adesso secondo me sono più belle le nostre delle loro e te lo dico sinceramente cioè praga e lugano non hanno cioè niente da invidiare anzi secondo me miami o nashville quest'anno deve iniziare a prendere appunti bene bene dai cari amici se volete anche voi essere parte di tutto questo fantastico movimento e di questa rivoluzione pacifica che satoshi nakamoto lanciò nel 2009 come fate beh uno delle prime cose che potete fare è acquistare qualche satoshi e iniziare a custodirlo in un wallet non custodia come fare usate pocket bitcoin perché è un servizio che scaricando la propria app dagli store vi dà a disposizione un wallet non custodia da tutti gli effetti significa che sarete i veri e diretti possessori delle chiavi private che controllano i vostri satoshi inoltre l'acquisto la procedura di acquisto è molto facile perché basta generare un ordine nell'app o anche sul sito pocket bitcoin.com vi verrà fornito un iban bancario e un codice causale e effettuando il bonifico nel modo che più vi aggrada dall'internet banking o anche di persona se siete mia nonna riceverete i vostri primi satoshi sul vostro wallet in realtà pocket bitcoin supporta anche tutti i maggiori hardware wallet del mercato e anche una semplice chiave pubblica seguendo la procedura online sul sito quindi grazie alla sua diciamo funzionalità di kyc lite vi viene chiesto solo un indirizzo email e niente di più quindi pocket bitcoin per iniziare il vostro fantastico mondo nel viaggio della self casting è bull run gaibro c'è bull run che entusiasmo non ho capito c'è stato tu hai capito se c'è stato il time high o no forse sì forse no noi bitcoiner non riusciamo mai a darci pace quindi anche quando il prezzo sale tantissimo discutiamo anche su questo c'è stato il time high no no non c'è stato il time high sì c'è stato ma se calcoli l'inflazione non c'è ancora stato quindi c'è stato in euro ma non in dollari c'è stato in yen ma non in euro c'è stato in cazzi è difficilissimo essere un bitcoin però è anche bello si discute di qualsiasi cosa di qualsiasi cosa comunque sicuramente il prezzo ha tenuto banco in queste ultime giornate sembra che appunto il principale motore propulsore siano appunto lo straordinario successo che continuano ad avere settimana dopo settimana la vendita degli etf bitcoin negli stati uniti che continua a sfracellare record su record con appunto delle prestazioni che francamente hanno sorpreso tutti Guybrush l'alving inoltre come se questo non bastasse si avvicina noi avevamo già siamo talmente vecchi e canuti e il nostro bip show è qua da talmente tanto tempo che chi ci segue dalle prime due stagioni si ricorda che noi avevamo già raccontato un altro alving nel 2020 durante la nostra seconda stagione e se siete con noi da quei tempi lontani o se avete riascoltato in tempi più recenti quelle puntate sicuramente avrete notato come nel 2020 ai tempi ormai remoti dello scorso alving non si faceva altro che parlare del modello stock to flow di plan b no questo modello mutuato dall'oro che sembrava per le prime epoche di bitcoin matchare perfettamente l'incedere dell'alving e il prezzo di bitcoin modello stock to flow è appunto basato sullo shock che c'è quando appunto bitcoin si dimezza la propria reward sei un matusa tu col modello stock to flow alving nuovo nuovo modello nuovo modello voi matusa ancora con lo stock to flow adesso c'è il power low il power low power low legge di potenza legge di potenza tra l'altro che power low spacca tutto il power low è molto bello power low sembra sembra un'arma dei power ranger è un'arma dei power ranger nasce dal nel 2018 pensa da un professore di fisica italiano giovanni santostasi come si chiama giovanni santostasi giovanni santostasi salve prof è un modello molto semplice in realtà perché prende come come diciamo negli assi del grafico l'asse x e l'asse y il prezzo sull'asse y in una distribuzione logaritmica quindi diciamo il classico equidistanza tra potenze di 10 quindi 0 1 10 dollari 100 dollari 1000 dollari 10.000 dollari non va su gradualmente come i numeri naturali ma va su come le potenze ma la differenza rispetto allo stock to flow è che mentre lo stock to flow cerca di modellizzare un trend sull'andamento del tempo naturale l'intuizione del prof e la semplicità del modello e la potenza perché di solito quando un modello previsionale è molto complicato c'è sempre alla fine il bias cognitivo cioè che tu cerchi di adattare a tutti i costi i dati a quello che vuoi che esca e allora complichi sempre di più il modello stock to flow effettivamente pecca un pochettino in quella direzione dal punto di vista matematico il modello power low invece è molto molto semplice perché semplicemente sull'asse del tempo mette il tempo anche esso in scala logaritmica e quindi la distanza tra un anno e il successivo si accorcia sempre di più andando a misurare quello che secondo il professore santonastasi è una accelerazione nell'adozione cioè lui dice non ci sarà solo un'accelerazione nel prezzo che è quello che vediamo la scala logaritmica diciamo nell'asse del prezzo ma ci sarà anche un'accelerazione nel tempo nella velocità di questa adozione lui disegna appunto disegnando il suo grafico effettivamente c'è un fit perfetto e mai e mai diciamo disatteso dal 2011 fino a oggi correntemente adesso in questo momento siamo esattamente al centro della fascia previsionale del modello power low quindi stai dicendo che il prof c'è becca c'è becca sì allora i modelli previsionali lasciano il tempo che trovano secondo me però secondo me non bisogna anche qua una questione di aspettative come dice jack maler se tu ti aspetti che un modello matematico predica il futuro da cui è l'eternità allora non ci siamo se però lo guardi per avere un'indicazione magari su quello che è già successo nel passato perché il modello previsionale deve per forza avere un cosiddetto back test cioè deve funzionare anche nel passato deve essere stato vero verificabile anche nel passato questo già già lo fanno i modelli quindi questo modello nuovo qui diciamo adatta molto bene con una trend line cioè quindi un una regressione lineare se non so come dirla in termini più semplici dritta una linea dritta mentre il modello step to flow era vi ricordate quella 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 linea a gradino che appunto parlava del del halving come uno shock nella fornitura limitata di bitcoin e quindi faceva combaciare in quel modo lì il crescere del prezzo in realtà nel modello power low del prof il trend è lineare e cresce gradualmente sempre in una scala logaritmica del tempo quindi accelera infatti la il rettangolino tra il 2024 ho tutto trovate tutto le note della puntata se volete anche voi immergervi in questo modello nuovo con la matematica il rettangolino tra il 2024 e il 2025 è piccolino quindi ci si aspetta secondo questo modello un picco verso i 300 350 mila dollari quando se verso la fine dell'anno cioè quindi il prof dice che vinco io esatto però non è detto perché c'è negli anni precedenti anche una fascia di annuale in cui questa cosa non accade il modello rimane nella fascia minore quindi può darsi di no in realtà la direzione che adesso fa pensare che possa vincere tu vabbè ma non parliamo di questo perché questo è uno dei tanti oh mi raccomando i modelli previsionali ripeto io li vedo io li vivo personalmente come un un esercizio di stile divertimento matematico non è che ci ci butto dentro la mia vita e ci investo perché il modello powerlow dirà che ma certo ma certo vedo la casa e quindi io li guardo con quest'ottica siccome è in quest'ottica che vanno guardati perché pensare di prevedere il futuro con la matematica è bella una bella suggestione ma è una cazzata mentre un altro indicatore invece più forte per quello che sta accadendo è il ce lo dà il bitcoin exchange balance tracker di coin glass coin glass un'azienda che fa analisi anche lì analisi matematica c'è in analisi di quello che accade sugli indirizzi uno dei più interessanti è quello che appunto tiene traccia dei wallet degli indirizzi chiavi pubbliche note dei vari exchange e c'è un droppone significativo dei di bitcoin che escono dai wallet noti degli exchange in particolare il 6 marzo se guardate se andate a guardare il grafico sto guardando io ho trovato anche questo nelle note c'è un down di quasi 10.000 bitcoin in un giorno prelevati dagli exchange questo in concomitanza con alcune analisi che arrivano da trader come james lavish per esempio ci racconta del fatto che da quando sono stati lanciati gli etf da quando grayscale ha iniziato a convertire il suo trust in un etf da quando ci sono stati dampati i vari sequestri dei governi così diciamo che il rastrellamento da parte dei big nine i nove fondi nuovi lanciati in gennaio sta un po terminando non sanno più dove girarsi e quindi sono andati a prendergli dagli exchange effettivamente con degli accordi e quindi stanno uscendo anche da lì e la cosa divertente è che ci sono su twitter una serie di diciamo trader tipici dice ancorati alla finanza classica che si stanno rendendo conto di una cosa che per noi bitcoin è un fulcro ideologico e cioè che dicono ragazzi ma vi rendete conto che di bitcoin non ce ne saranno mai più di 21 milioni questa è la prima volta che hanno a disposizione un fondo su una cosa veramente finita che non si può in nessun modo alterare se ne stanno rendendo conto e loro lo vedono come un problema dicono abbiamo un problema come facciamo quando la domanda aumenterà e non ci saranno più ed è lì ed è lì che io arrivo che aspetto arrivo quando arrivano agli odler di ultima generazione proprio quelli che non te lo venderanno mai voglio vedere che cosa succederà lì quindi questi sono gli indicatori più forti secondo me da una parte un modello matematico abbastanza semplice semplice molto semplice questo mi dà l'idea del fatto che sia più plausibile perché secondo me più un modello è semplice più è più è forte più è resiliente al alla vota le volatilità e le variazioni e dalla seconda dall'altro lato invece un numero una statistica più diciamo reale cioè una un buco nel salvadanaio degli exchange che da un certo punto di vista è una buona notizia perché noi da sempre vi diciamo togliete i bitcoin da questi exchange però in realtà il bitcoin non stanno andando dagli exchange all'utente finale stanno andando dagli exchange a un fondo che li terrà e però questo è inevitabile e questo però inevitabile ciò che conta è che la gente sappia che questo sta succedendo e prenda le proprie contromisure certo assolutamente la scarsità non è ancora pesata sul prezzo ecco questo è il fatto è che se ne stanno rendendo conto anche quelli che fino a ieri facevano trading su beni che possono cioè il cui la cui supply la cui diciamo fornitura magari è anche limitata e scarsa non si sa quanto oro ci sarà non si sa quanto litio verrà estratto si fanno delle stime ma qui c'è proprio la certezza matematica è la prima volta che hanno una certezza matematica e quindi se sono tutti secondo me sono in fomo piena i compratori dei vari etf è possibile ne vedremo delle belle secondo me alcuni dicono addirittura nello scorso ciclo nello scorso all time i avevamo un freno a mano tirato che era tutto alla vicenda di ftx che si è nascosto come si è scoperto poi alterava esatto cina così adesso non abbiamo più queste cose quindi questo ciclo non seguirà la la salita di quello precedente ma vi scioglierà la faccia questo ciclo violetto esagerato allora come ti sento bullish ma chi sei allora sai perché sai perché mi ha mi ha dato questo questo ottimismo particolare il fatto che questa consapevolezza che fino adesso era mia tua e degli ostri ascoltatori e di pochi altri bitcoin come dici tu siamo una community piccola alla fine adesso questa questa consapevolezza della della scarsità digitale della finitezza digitale di bitcoin sta uscendo un po dai confini ed è una delle cose più più prorompenti della proposta della value proposition di bitcoin fatto di avere per la prima volta quando io sono andato a lugano per esempio c'era la prof di matematica la rettrice dell'università che lei ha fatto il domandone scusi ma per voi non è non è un caso da esplodere il cervello anche per voi questo fatto che abbiamo a disposizione per la prima volta della storia dell'umanità un bene vero finito veramente finito tutte le altre volte diciamo simulavamo un bene finito l'oro sì è finito ma fino a un certo punto stavolta lo sappiamo non è una cosa che mi fa esplodere il cervello lei vabbè mi rispose citando terra luna quindi non aveva capito niente però secondo me finalmente sta varcando il rubicone questa idea questa consapevolezza per quello che sono entusiasta fun times ahead ragazzi volete sentire qualcosa per la quale davvero bisogna essere bullish la volete sentire totalmente open source chip di sicurezza multisignature sicuro setup facilissima backup e recovery facilissima sto parlando di bitbox 02 il miglior hardware wallet sul mercato e questo non lo diciamo soltanto solo noi non lo dice l'azienda bitbox ma lo dite voi lo dicono i clienti di bitbox perché gaibras se andiamo su trust pilot scopriamo che bitbox 02 si becca un bel 4,8 su 5 con 793 reviews mentre per esempio il ledger nano x si becca un bel 2,4 con quasi 1700 recensioni e il trezzor model t si becca un 3,5 con 522 recensioni quindi anche secondo gli utenti che hanno recensito bitbox 02 su trust pilot trovate questa comparazione sul sito bitbox.swiss convengono con noi che è assolutamente il miglior hardware wallet sul mercato convincetevene anche voi andate sul loro sito indagate capite perché è bitbox 02 il dispositivo che dovete assolutamente acquistare per avere cura dei vostri bitcoin dopo che l'avete capito andate sullo store online e acquistatelo col 10 per cento di sconto grazie al codice bip show più aspettate più rischiate bitbox 02 adesso allora ricchi in un contesto di utilizzo della blockchain per fini discutibili si rende necessario una una skill che appena fino ad adesso è rimasta diciamo meno meno impattante meno meno influente sull'utilizzo e sull'interazione con bitcoin parlo della fee estimation cioè della stima delle commissioni che servono per iscrivere una scusate non iscrivere scrivere una transazione on chain fino ad adesso diciamo lo standard de facto era espresso da mempool.space con il suo se andate nel home page vedete subito le commissioni stimate e loro lo dividono in quattro categorie nessuna priorità bassa priorità media priorità alta priorità quindi alta priorità è la la commissione per vedere la tua transazione nel successivo blocco arriva però un nuovo una nuova proposta da parte di samurai wallet che non ne amo non ha una diciamo fama molto buona non è il wallet più amato dal bitcoin ero ortodosso diciamo primo perché loro sono un po' antipatici poi è un wallet closed source quindi non si sa esattamente che cosa faccia insomma il freedom fighter bitcoiner non li ama ma vabbè esatto però anche lo mi ha stupito nel leggere questa questa proposta che anche lo stesso peter todd che ha litigato pesantemente con samurai wallet in passato dice bisogna dare a cesare quello che dice cesare la stima delle fee in termini di probabilità di entrare nel blocco successivo è il modo corretto di farlo e soprattutto il modo corretto di spiegare questo dato agli utenti e quindi samurai wallet lancia il suo nuovo estimatore stimatore di commissioni che si chiama nextblock.is ed è un page semplicissima con tre categorie low medium e high quasi esattamente come il pool space non concordano i due servizi però sulla metodologia di calcolo di questa di questo dato e loro creano lo sviluppatore laurent crea questo questo algoritmo di stima un annetto fa mi pare lo chiamò il the one dollar fee estimator cioè parla anche questo di una grande semplicità viene utilizzato semplicemente una una sorta di stima statistica su quello che un nodo qualsiasi un full nodo qualsiasi può fare semplicemente andando a prendere quello che più probabilmente un miner vede come blocco vantaggioso nella mempool in quel momento ci sono dei ci sono dei come dire delle delle precisazioni da fare delle variazioni che però sono nell'ordine dell'uno per cento quindi se se volete anche qua approfondire trovate anche questo nelle note dell'episodio è un punto di riferimento e soprattutto secondo me è utile avere almeno un'altra voce che parla che che stima questi dati perché mempool.space effettivamente aveva secondo me un bias di ritorno cioè tutti guardavano mempool.space e quindi tutti usavano le fee che diceva lui e quindi influenzando le stesse fee che andavamo a utilizzare quindi adesso invece abbiamo un altro dato molto coerente molto argomentato e quindi nextblock.is se volete anche voi utilizzare io proverò a utilizzarlo nella mia gestione dei nodi lightning io nella apertura nella chiusura di nuovi canali guardo sempre quando è il momento migliore e quando fare e quindi a fino adesso ho usato mempool.space guarderò nextblock.is senti qui guybrush oggi ho convertito in bitcoin l'ultima shitcoin grazie per avermi fatto capire il senso di bitcoin sai chi ce lo scrive mi si è sciolto il cuore il cuoricino vero quanto ci fa piacere ricevere questi messaggi questo è il messaggio allegato alla transazione lightning che dà al nostro pseudonimo amico che chiameremo ultimo shitcoiner il titolo di mecenate dell'episodio che è il top donor con una donazione da 47.222 satoshi appunto sul lightning network fate come ultimo shitcoiner www.bip.show la sezione supportaci scegliete voi come supportarci con i nostri link ogni volta che acquistate qualsiasi cosa su amazon mi raccomando oppure con una donazione diretta lightning on chain o anche sporca fiat paypal ciò che conta è che voi lo facciate perché we are legion è l'unico modo per avere la certezza che ogni giovedì alle ore 17 noi vi si proponga un nuovo episodio è quello di rimboccarsi le maniche smetterla di rubacchiare e darci un obolo quanto lo decidete voi ogni quanto lo decidete voi ma se mai siete dei ladri e vi cascherà il pipino fate come ultimo shitcoiner ultimo shitcoiner per te che sei il mecenate del nono episodio della sesta stagione del bitcoin in italia podcast pipino bello attaccato anche grosso perché hai dimostrato di avere los cojones per te l'onere e l'onore di vedere il tuo pseudonimo scolpito nel travertino digitale delle note dell'episodio mecenateci ragazzi e viva i pipini grossi le curiosità del professor gai ciao allora per la curiosità di oggi velocissima anche oggi in realtà abbiamo un triste follow up di quello che vi raccontavamo nella puntata no cosa mi stai dicendo allora momento in chiusura di puntata volevo dirvi quali sono stati il blocco più piccolo mai minato il blocco più grande mai minato nella storia del time chain e mi ero segnato questa curiosità un mesetto fa e avevo trovato i due estremi purtroppo nel dirla in questa puntata il mio record di blocco più grosso è stato sbugiardato dal fantastico servizio maraton slipstream che è quello ne abbiamo parlato di contattare maraton per minare la tua fantastica transazione in maniera privata invece che in vera no allora il blocco è imbarazzante perché intanto è grosso 33,99 kilobyte quindi quasi 4 mega completi che è il limite ultimo di un blocco quindi il più grosso blocco mai minato nella storia di bitcoin contiene il modello 3d di un sasso no ma che meraviglia nero che ruota è una inscription e che qualcuno ha deciso di pagare ma questo è un avanzamento epocale della scienza e della tecnica non sappiamo quanto non sapremo mai quanto hanno pagato questa cosa il blocco è il più grosso ma se lo andate a vedere contiene non contiene contiene solo il reward perché la trattativa sarà andata prima in maniera privata e quindi bene che che bello il record del blocco più grosso è un sasso mentre per il blocco più piccolo forse la cosa un pochino più interessante che è un blocco di 11 anni fa del 2013 il 225 il blocco più piccolo ovviamente esclusi i blocchi vuoti di cui abbiamo già parlato è no qua è proprio che il cavillo tutti i blocchi vuoti sono molto piccoli quindi stiamo parlando di un blocco vuoto però non tutti i blocchi vuoti sono grossi uguali perché perché la comunque la coin base transaction va scritta certo e lì dentro ci devi scrivere qualcosa in questo caso la coin base transaction è talmente piccola che invia il reward di quel momento 25 bitcoin 25 mi è venuto il magone mentre lo dì 25 bitcoin ha una chiave pubblica legacy quindi la più piccola delle possibili con una coin base piccolissima di 6 byte quindi non è rivendicata né niente e con uno script piccolo il più piccolo possibile allora questo questo blocco è grande solo 176 byte allora ci si chiede ma c'è un limite è possibile farne uno ancora più piccolo ovviamente i bitcoiner più accesi sono lanciati in questa discussione su bitcoin stack exchange e interviene anthony ciao che adesso non so se hai visto si fa chiamare ava ciao ha fatto una transizione e dice che secondo lui il limite il limite inferiore si si cavoli il limite inferiore è di 65 byte quindi quindi possiamo ancora migliorare possiamo migliorare sui blocchi più piccoli interessante attenzione ragazzi se volete fare la storia mettete su un miner giusto per il gusto di scrivere il blocco più piccolo nella storia di bitcoin esatto o magari più grosso per farci qualcosa di sensato invece che il modello 3d di un che noioso che sei che noioso show chiocciola bip punto show la nostra email bip underscore show siamo noi proprio noi sulla maggior parte dei nostri social network su twitter ricky six sono io r i k k i 6 i x x guy brushino proprio così come ve lo dico è il mio sodale qui collegato con noi caro guy brush hai poco da sfottere tu col rendering 3d il sasso ma il sasso caro mio che tanto ti dà fastidio poi la notte te lo sogni dimmi la verità che te lo sogni e sì me lo sognerò questo sasso nero che gira sì perché sai che c'è un altro sasso che gira c'è un altro sasso che gira nelle mie mutande non sto parlando dei nostri attributi sto parlando di un grande sasso bianco che gira grande sasso bianco giusto mentre il saggio indica il grande sasso bianco lo stolto guarda il modello tu sei lo stolto in questo caso caro mio che guardi il modello 3d senza vedere che il vero sasso quello che interessa tutti noi è il sasso di bianco questo non me l'aspettavo questo non me l'aspettavo dopo sei stagioni ancora mi sai stupire come la prima volta hehehe Grazie per la visione!